sono arrivate le manze belle eh? Guardare ma non toccare e in partenza dal primo binario e in partenza dal primo binario Christian Express ferma le stazioni di Vettimiglia Valle Crozia Sanremo Armagnitaggia Alvega Borghetto Loano Pietra Imperia Savona Pinerolo Torino c'è qualche duro di Monza ciao praticamente in Italia che balla questa notte più bello è vero è vero Cristian Espresso 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 Cristian Espresso